Buongiorno e ben ritrovati per questa nuova puntata di Sette in Punto. Ci occupiamo oggi di un tema bellissimo e di grande attualità perché parliamo di esplorazioni spaziali all'interno del nostro sistema solare e devo dire che Padova e l'Italia hanno giocato come sapete un ruolo importante in tutte le ultime missioni spaziali. Io sono contenta di avere con me questa mattina il direttore del CISAS che è intitolato a Giuseppe Colombo e che è al centro di tutto questo lavoro che si fa un po' in Europa attraverso l'ESA ma un po' in tutto il mondo per andare alla ricerca di cose nuove vicino al nostro pianeta. Quindi Marte ma la grande anticipazione che ci porta il professore è anche quello che si sta preparando per Giove. È così? Certo che sì. Come lei diceva siamo coinvolti nell'attività spaziale fin dagli albori dell'attività spaziale italiana e europea partendo da Giotto ancora la missione Giotto, poi Cassini-Huygens che è andato su Saturno a visitare Titano in particolar modo dove siamo atterrati, poi Mars Express la prima missione ESA a Marte che ha avuto un grandissimo successo. Tra l'altro in regia c'è già Mario Tommasi potrebbe far vedere se ce l'ha la foto che racconta un po' tutte queste missioni e che fa una specie di cronistoria dall'inizio fino ai nostri giorni sostanzialmente. Sì eccola qui la foto. Prego diceva eccola qui. Mars Express che è la prima missione a Marte che ha ancora tuttora un grande successo in cui abbiamo partecipato con uno spettrometro planetario di Fourier per analizzare la composizione molecolare dell'atmosfera di Marte è stato proprio il primo esperimento che ha tracciato la presenza di metano e che poi ha dato il testimone al programma ExoMars 2016-2020 ormai si deve dire per andare a investigare proprio la presenza di metano e altri gas complessi. Ecco quindi Padova si sa che è un grande centro di studio di ricerca e di innovazione voi siete intitolati a Giuseppe Colombo Beppi Colombo che ha dato anche il nome appunto una di queste missioni e ha chiamato il meccanico dei cieli. Quindi noi qui con molta umiltà da Padova sempre abbiamo cercato di costruire e dare il nostro contributo e anche in queste ultime missioni c'era della tecnologia costruita quasi artigianalmente ancora qui da noi a Padova. Devo dire che è andato tutto bene fino a Rosetta poi con questa missione di ExoMars e purtroppo l'atterraggio brutale della sonda Schiapparelli siamo rimasti tutti un po' male. Di questi giorni è la notizia che non sarebbe colpa nostra però insomma che potrebbe essere colpa di una agenzia romena a cui sarebbero stati affidati dei controlli. Lei condivide questo che è stato detto attraverso la stampa, è stato denunciato attraverso la stampa da dottor Flamini? Sicuramente il collega amico Enrico Flamini ha detto una cosa che è tracciabile, è un dato di fatto. Più volte abbiamo anche noi nel nostro piccolo che abbiamo fatto DREAMS un esperimento per misurare la composizione e i parametri atmosferici di Marte al suolo quindi pressione, temperatura, velocità in modo automatico dotato di software. E' una piccola forma di intelligenza diciamo, avevamo un po' messo la pulce nell'orecchio che c'era una situazione faraginosa da parte del project office di ExoMars. Quindi prima della fine missione avevate detto? Sì, un po' dall'inizio e noi ci auguravamo che questo non avvenisse anche per il modulo di discesa. La situazione è stata che i test veri in un analogo terrestre che è l'alta atmosfera nostra non sono stati fatti per vedere che cosa si sarebbe potuto aspettare di avere e questo sicuramente non ha aiutato. Però secondo me il discorso è un po' più ampio perché se lei giustamente ha detto Rosetta, in realtà anche ExoMars è stata lanciata nel 2004 e sta chiusa il 30 settembre con brillanti successi anche più di quanto atteso. Mars Express è stato lanciato nel 2003, Venus Express negli stessi anni ha funzionato bene. A mio avviso quello che sta un po' rendendo più ostico il successo e anche lo sviluppo di questi importanti programmi spaziali è un'applicazione un po' troppo leguleia delle normative vigenti dell'ESA e quindi il lavoro si trasforma più in verificare che i documenti siano... Come per tutte le professioni... Che è importante, che è importante e magari poi non si hanno le risorse per fare delle cose che sono... Intanto stiamo facendo un po' un revive con le immagini, tornando a Rosetta. Questa è l'Utezia, sì. Perché diciamo che la missione è completa ma vedo che ora tutti gli scienziati sono ovviamente impegnati nel commentare quello che questa missione ha portato dal punto di vista delle novità, delle conoscenze, il cuore nero di questa cometa. Insomma questa missione è affascinante non solo perché con tecnologia diciamo così vetusta ormai siamo riusciti ad arrivare in una distanza siderale veramente enorme e da atterrare con precisione e raccogliere e mandare e spedire immagini bellissime che abbiamo visto ma anche adesso a cercare di capire che cosa è il vero contributo di questa missione. Su questa missione il CISES ha partecipato in modo estremamente importante per l'esperimento OSIDIS costituito da due telescopi, uno ad alta risoluzione e uno a campo ampio, che è la wide angle camera che abbiamo progettato, ideato, collaudato a Padova col contributo anche di INAF per il disegno ottico e del DEI per sempre per il disegno ottico e calibrazioni e del dipartimento della loro ingegneria meccanica che assieme si collaborava e tuttora si collabora in seno al CISES. E lì è stato fatto tutto l'integrazione, il collaudo, il test non solo del telescopio ma anche di meccanismi fondamentali di protezione dei telescopi perché la missione è stata lanciata nel 2004, è arrivata alla cometa nel 2014 e quindi era importante che non si contaminassero le lenti e gli specchi. Assolutamente, visto che sono specchi. E l'otturatore elettromeccanico che è quello che consente di fare l'esposizione e di avere un contrasto molto elevato e anche una dinamica dell'immagine che consente di apprezzare le polveri e quindi l'attività cometaria come è accaduto. Le belle immagini sono grazie ai padovani. Certo, in aggiunta le ultime immagini fatte sono state fatte proprio con il nostro telescopio fatto a Padova fino a quasi 20 metri prima che l'orbita rosetta toccasse il suolo della cometa. E si è spento adesso sostanzialmente. Sì, hanno dovuto per così dire imbrogliare il computer di bordo per farlo atterrare in modo diciamo gentile e non invasivo e anche per fare in modo che non appena atterrato spegnesse il sistema e anche i razzi propulsori. Insomma, altri contributi importanti. Le faccio fare un salto in un argomento un po'. Le faccio fare un salto visto che abbiamo parlato del fatto che adesso questo nostro lander è lì su questa cometa e chissà chi in futuro lo ritroverà lì a patto che la forza del... non so cosa si dice... Il campo gravitazionale di Marte non è trascurabile perché è un terzo di quello della Terra. No, no, su Rosetta dico il lander. Ah, su Rosetta. Quello sarà un campo gravitazionale più... Praticamente trascurabile, nulla, piccola piacere. Questo potrebbe anche staccarsi una volta... Beh, abbiamo visto in linea di principio sì, anche perché l'attività cometa stessa può indurre delle perturbazioni diciamo per... Anche se, insomma, Rosetta pesa qualche tonnellata, insomma, come satellite, è vero che in termini di chilogrammi, quindi in questo valore non c'entra certo la gravità. Però abbiamo visto che per diversi mesi Fila è rimasto lì, si è infrattato, incastrato nella roccia e non si è più mosso. E non si è più mosso. Non glielo dico perché sa questa cosa che c'è stata questa luna gigante, ci sono state un sacco di osservazioni della luna che nonostante sia così vicina a noi continua a esercitare un grandissimo fascino ed è ancora piena di tanti misteri. E nei giornali, in questi giorni, si è detto che ci sono, proprio osservando queste immagini, si sono visti dei residui di altre emissioni spaziali, addirittura qualcuno ha parlato di atterraggi alieni, che non so che parlare di questa cosa forse fa un po' sorridere. Però qualcosa c'è che forse non sappiamo e che è successo nel frattempo? Beh, sicuramente voglio dire quello che possiamo dire è che sulla luna sappiamo che ci siamo andati a fine degli anni 60, nel 69 un anno molto particolare, no? Quindi, però la strumentazione in dotazione... Il piccolo passo per l'uomo e il grande passo per l'umanità. La strumentazione in dotazione al tempo è ordine di grandezza, diciamo, inferiore come prestazione alla strumentazione che disponiamo adesso. Questo è anche un motivo per cui alle volte si torna su pianeti, per così dire, già visitati, perché si aumenta comunque l'informazione, perché si riesce a vedere meglio o a apprezzare in modo più accurato i parametri che poi servono per studiare a fondo, e non solo da un punto di vista, diciamo, morfologico ma anche geologico, la natura di un pianeta piuttosto che un satellite come è la nostra luna. E quindi, peraltro, ci sono dei programmi futuribili, ma non molto in là nel tempo, che prevedono anche di accalappiare un asteroide, portarlo in orbita attorno alla luna e riuscire ad andarci con un essere umano su questo asteroide per fare delle ispezioni, sia come palestra per missioni verso pianeti un po' più lontani, ad esempio Marte, ma anche per vedere se questi oggetti, oltre a dare un'importante informazione scientifica sull'origine del nostro Sistema Solare e magari anche dell'Universo, capire anche se hanno dei materiali che non abbiamo a Terra, oppure se possono essere utilizzati anche... E questa idea quando dovrebbe essere realizzata? Ma insieme alla NASA fa un po' da traino su questa tipologia di missioni, ma anche la Cina c'è andata con dei robottini, ci va sulla luna. Quindi tutte queste cose che sono state viste dai vari telescopi che della Terra hanno puntato la luna in questi giorni potrebbero essere residui di queste... Certo che sì, di osservazioni già fatte, di missioni fatte precedentemente e anche di altre che se ne faranno in futuro. Vediamo che la comunità internazionale, non solo scientifica ma anche tecnologica, ha degli accordi su programmi nuovi che speriamo possono consentire, unendo gli sforzi economici, a portarli a compimento. Allora, quando ho telefonato al professore per chiedere se gentilmente ci veniva a trovare, appunto intendevo parlare della prossima missione su Marte, visto che già ovviamente si sta pensando. Lui mi ha detto, guardi che non solo stiamo preparando anche la terza, ma stiamo pensando già a Giove. Io sono rimasta solo zitta e ho detto, ah, e questo è stato il mio unico commento. Tanto per far capire che voi guardate avanti di decenni sostanzialmente su quello che sarà il programma delle attività spaziali e di tutta la tecnologia che servirà per portare poi le missioni nei pianeti più prossimi alla Terra. Ci vuole spiegare che cosa sta succedendo, che cos'è ExoMars 2, cosa sarà poi ExoMars 3 e cosa sarà la spedizione su Giove? Perché appunto in questi giorni abbiamo letto anche che le osservazioni comunque fatte da un sistema che c'è intorno a, che non mi ricordo come si chiama, Renaissance... Mars, la seconda science orbiter, che ha il telescopio attualmente in orbita intorno a Marte, che ha le prestazioni in termini di soluzioni migliori di tutte, perché è praticamente l'unico strumento quasi a bordo del satellite, quindi è un telescopio molto grande, e quindi con prestazioni molto spinte. Perché ha visto un lago, un lago grande quanto l'Italia su Marte? Beh, diciamo che questa notizia, se non ricordo male, in primavera di quest'anno, era emersa dall'elaborazione di queste immagini che tornano a Terra grazie a questo strumento in orbita intorno al pianeta, si era capito che c'è l'acqua anche in fase liquida, in certi periodi sulla superficie di Marte. Il punto è che Marte non ha un vero clima, quindi non è una cosa che uno può prevedere ciclicamente, che ogni X anni o X mesi si può rimanifestare un fenomeno analogo. Perché, diciamo, la microclimatologia del pianeta è di fatto generata grazie a tempeste di sabbia, che possono coinvolgere una piccola parte della superficie, una grande parte della superficie del pianeta, o addirittura tutto il pianeta. E' questo che complica la vita a chi vuole progettare una missione. Esattamente, ed questo era un altro degli obiettivi di ExoMars 2006, capire quanto aggressivo è l'ambiente sulla superficie di Marte quando si è in presenza di tempeste di polvere. E noi padovani eravamo lì pronti con le nostre misurazioni di temperatura e di tutto, che dovevano atterrare. Quindi il motivo per cui è successo qualcosa di non atteso durante la fase di scesa, proprio gli ultimi secondi, decine di secondi, può essere anche stato indotto da perturbazioni atmosferiche che hanno fatto mandare in tilt i sensori, e a quel punto lì il computer legge il sensore e interpreta i fischi per fiaschi, insomma. Pensando di essere già arrivato al suolo, si è messo in modalità superficie, ha acceso DREAMS, DREAMS ha dato l'housekeeping, si dice in termini tecnico, cioè ha detto sto bene, i sensori funzionano bene, e poi ha iniziato la procedura automatica in cui Schiaparelli si è messo in ibernazione e poi si è fatto 2.000-3.000 metri di caduta in discesa libera, arrivando, partendo da una velocità già assunta di circa 240-250 metri al secondo. Quindi queste notizie raccolte appunto anche da questo gigantesco telescopio, stanno comunque influenzando la prossima missione su Marte? Cioè questa è già tutta pianificata o verrà modificata proprio in base anche all'esperienza Schiaparelli e a queste notizie che stanno arrivando dalla... Beh, la tecnologia per Schiaparelli è sicuramente riutilizzabile per la 2020, ovviamente facendo anche dei test per rendere più robusto il sistema e essere reattivo anche a eventi non atteggi o non prevedibili solo da simulazioni numeriche. Per questo è importante e fondamentale l'attività sperimentale. Quindi sicuramente i satelliti che sono in orbita attorno a Marte sono ben più di uno, non c'è solo Massa Consenso Orbita, c'è anche il nostro, cioè dell'ESA Mass Express, c'è Maven, ce ne sono 5 e 6, servono per continuare a monitorare, a dare informazioni e utilizzare quelle informazioni per prevedere nuove missioni, ma anche da fare da satelliti da telecomunicazioni. Tanto noi vediamo la missione dal lancio in poi sostanzialmente, è un po' riassunto. E quindi ci servono anche come satelliti da telecomunicazioni per riportare a terra i dati di missioni future che andranno su Marte. Il TGO, ad esempio, fra circa 6 mesi inizierà la sua vita scientifica per analizzare che gas ci sono sull'atmosfera di Marte, quanto ce n'è e da dove fuoriescono dal suolo, attraverso un telescopio di soluzione che si chiama Cassis, dove abbiamo una partecipazione come INAV di Padova e anche come CISAS. E che è gigantesco, no? Sì, non è come l'iRise che è a bordo di Marte con una 6 Orbiter, però in più ha una risoluzione un po' diciamo più grossolana, che comunque sono 2-3 metri al suolo a 400 grammi di distanza, quindi grossolana per modo di dire e con dei filtri di colore che consentono anche di fare un'interpretazione scientificamente più approfondita della superficie, mentre l'iRise non ha filtri di colore, quindi ti dà solo informazioni, solo, ti dà l'informazione geometrica e morfologica e non della composizione della superficie. Quindi da questo voi adesso preparate la prossima missione? La 2020, sì, quella che era prista nel 2018 e verosimilmente, anzi praticamente ufficiale sarà nel 2020, in quel caso si dovrà atterrare con un lander guidato sia dall'Italia e dall'ESA, quindi come prime ship dall'industria italiana e dalla Russia, e un rover che andrà a muoversi per qualche centinaio di giorni sulla superficie marziana con un trapano sempre fatto in Italia da Leonardo Finmeccanica. Quindi abbiamo la grande azienda italiana e anche Thales, Regna Space, Leonardo, Finmeccanica, piccole e medie aziende italiane e anche gli istituti di ricerca, quindi l'INAF, il CISAS e altre università di Padova come il Politecnico di Milano. Senta, ma se questa missione va bene, la terza porta l'uomo o no? Beh, gli step tecnologici non sono solo questi. C'è un'altra missione che dovrebbe partire nel 2018, che viene chiamata Red Dragon, e forse può essere che ci sia una collaborazione anche da parte nostra a questa missione, che porta una capsula per astronauti sul pianeta in modo sicuro, ovviamente non con gli astronauti dentro. Capsula vuota, quindi? Esattamente, questo è uno step. Che sarebbe una specie di rifugio nel caso... No, no, per arrivare e poi ripartire. Quindi è il veicolo da portare sul solo marziano per poi rimettersi in orbita per tornare in qualche modo a terra. Sarà completamente vuota o ci sarà, come è successo per la Luna con la cagliolina laica? No, no, sarà sicuramente completamente vuota di esseri viventi, diciamo. I batteri stessi sono oggetti che vengono sterilizzati, anche i nostri DREAMS vengono portati a 110 gradi. Per non contaminare, ovviamente. Esattamente, e anche perché non sappiamo quanto bene faccia eventuali batteri quando ritorneranno a terra, insomma. Quanto si incazzano per l'esposizione al vento solare e ad altri agenti particellari. Potrebbero rinforzarsi, quindi. Ad esempio, o modificarsi geneticamente, però questo è uno studio che non viene fatto dal CISA. Certo, certo, però sappiamo che quando parte una missione... Magari il nostro rettore o i suoi collaboratori potrebbero... Non parte mai una missione sola, ne passano tante in genere, insieme. L'altro step tecnologico importante è la capacità di andare su Marte, prendere dei campioni, metterli in orbita attorno a Marte e riportarli sulla Terra, che si chiama Mars Temple Return. E i primi studi sono iniziati a fine degli anni 90 e si continua a studiare per questa missione, anche se non è ancora programmata in modo definitivo. Mi devo fermare due minuti per una piccola pausa pubblicitaria. Torniamo tra due minuti e guardate che parliamo della prossima missione su Giove. Quindi sono anticipazioni assolutamente nuove e le sentirete tra pochissimo. Eccoci con il professor Stefano Devei che ci è venuto a trovare questa mattina, direttore del CISAS Giuseppe Colombo, per parlarci di tutto quello che sta accadendo nell'ambito delle missioni spaziali. E una cosa in particolare è che si sta preparando, non so come, non so in che termini, una missione per Giove. Certo, sì. La missione per Giove, alcuni anni che ci lavoriamo, era partita prima come una missione composta esa NASA e in compartecipazione, e venne chiamata la PLAS. Poi la NASA si fece da parte, lasciandoci anche a piede per ExoMars 2016, dove invece arrivarono i russi, come si vuol dire anche nel film, e adesso si chiama Giuis, è 4-5 anni che lavoriamo su Giuis, che non è il suco di frutta. Abbiamo delle foto, lo dico per la regia, esatto, di Giammario e Tommaso, delle foto di questa missione Giuis con le immagini di Giove. Giuis sta per il proprio Jupiter Ice Moon Mission, che va a studiare due lune di Giove importanti, perché sono ghiacciate e con ghiaccio d'acqua, che questo si sa già, che è Ganimede una e l'altra Europa. Ganimede sarà studiata in modo profondo, orbitando proprio attorno a questa luna di Giove, mentre Europa sarà osservata facendo delle manovre di campo gravitazionale che va a assistere i satellite, passando quindi vicino a Europa e studiandolo un po' da vicino. Europa è curiosa perché è ghiacciata d'acqua e sotto un oceano d'acqua, diciamo. Però? Quindi non è detto che forme di vita prebiotiche siano poi così solo lontano dal nostro sistema solare potrebbero essere già presenti. E con queste immagini riuscirete ad arrivare ad una definizione tale da capire se effettivamente ci sono o no? Beh, capire la conformazione e la composizione meglio sicuramente sì. Per avere prova se ci sono o meno bisognerebbe, che era una missione anche che è stata studiata a livello diciamo concettuale, per atterrare su Europa e andare, perforando il ghiaccio, andare proprio a studiare a contatto in situ l'acqua, non solo in modo remoto. Ci sono delle strumentazioni dove l'Italia ha una leadership sicuramente, che consentono, dei radar, che consentono di andare a misurare senza contatto, quindi dal satellite, andare a misurare in profondità e rilevare la stratigrafia, quindi capire che cosa c'è che non c'è. Che è la stessa che sta succedendo per questa cosa dell'acqua su Marte? Sì, e anche dove c'era Marsis da un lato e Sharad, che invece è su Marsis, che studia il sottosuolo con tecniche di indagine radar. Mamma mia, che bello, che fascino, veramente impressionante la possibilità di capire, di conoscere da queste immagini, riuscire a indagare poi tante cose che hanno a che fare con la nostra vita. Parlavamo del CISAS e non abbiamo ancora spiegato bene che cos'è e perché è titolato a Giuseppe Colombo, anzi a Beppi Colombo, come si chiama la visione, perché tutti lo chiamavano così. Il CISAS è il centro di internaio per gli studi di attività spaziali e attualmente sono direttore io, per inciso e con molto orgoglio sono anche docenti di misure meccaniche termiche e robotica spaziale per il Dipartimento di Ingegneria Industriale. Il centro è stato voluto prevalentemente da professore Angrilli e professore Bernacca per creare un centro multidisciplinare perché era loro convinzione ed è di estrema attualità e lo è tuttora che i progetti complessi, inclusi quelli spaziali, necessitano di un ambiente anche di formazione che sia multidisciplinare. Non basta essere solo ingegneri o solo astronomi o solo geologi, quindi che ci sia un osmosi di conoscenze, anche se non si è esperti, può solo che favorire e agevolare la partecipazione a progetti così ambiziosi. Insomma, sia in volo ma anche a terra, anche perché ci sono molti progetti complessi anche nell'industria tradizionale, voglio dire, non è che siano solo quelli spaziali più difficili. Quasi tutte le tecnologie che vengono utilizzate nello spazio, poi ce le ritroviamo noi dai telefonini ai GPS. E viceversa, e anche viceversa c'è anche lo spin out da quello che si fa. E sempre di più, immagino sia così. E Giuseppe Colombo è ancora presente come spirito. Il professor Colombo ha insegnato meccanica celeste e meccanica di liberazione a Padova, è stato un vero pioniere dello spazio, non solo per gli italiani ma a livello mondiale, tant'è che ha guidato anche con i suoi studi la NASA in numerose missioni. Il fatto che sia stato intitolato a Beppi Colombo la missione dell'ESA Mercurio è perché lui ha fatto i conti molto bene di com'è il rapporto fra la durata dell'anno mercuriano del giorno, che è 2 a 3. Quindi due giorni mercuriani sono tre anni mercuriani, mentre noi la Terra nostra ha 24 ore e un giorno su 365, il rapporto è 1 a 365 lì. Quindi è molto lento a ruotare attorno a se stesso, essendo vicino al Sole ovviamente che la trazione gravitazionale del Sole è molto più potente. Gira molto vicino al Sole, intorno al Sole gira velocessimamente. È fra gli studi che dobbiamo fare lì con Symbiosis, che è il nome dell'esperimento che è stato sviluppato in ambito degli istituti e con l'industrializzazione da parte di Fimeccanica Leonardo adesso, che sono tre telescopi, uno ad alta risoluzione, una stereocamera e uno spettrometro nel visibile infrarosso che vanno a studiare la morfologia di questo pianeta. E non solo la morfologia, si vanno a studiare anche il fenomeno delle liberazioni, cioè il movimento relativo che c'è fra il nucleo del pianeta e della crosta, la superficie esterna del pianeta, che questo è dovuto alla trazione dei campi gravitazionali degli altri pianeti grossi, ovviamente del Sole, e quindi l'effetto che ha Giove su Mercurio, Marte su Mercurio, campi gravitazionali che influenzano anche eventi che succedono sul nostro pianeta. Certamente, tra l'altro leggevo per prepararmi a questa puntata che c'è un grande dibattito in questo momento, proprio sulla forma del nostro sistema solare e sul perché Giove si è messo in questa posizione, perché ci sarebbero due paralleli di asteroidi sostanzialmente, che di fatto si sono in maniera distinta a tratti, e Giove è nel posto sbagliato, secondo le teorie. Lo spiegherei meglio di me, perché io ho capito questo sostanzialmente. Sì, diciamo che, sono solito parlare in positivo più che in negativo, quindi con questa convinzione che alle volte può sembrare essere un esempio di conciutaggine, Giove sei lì un motivo, ce l'ha, no? Certamente. Secondo certe teorie può essere nel posto sbagliato, e quindi gli studi saranno proprio anche per migliorare le teorie, non è che siano sbagliate le teorie. Pensavamo che almeno su questo fossero tutti d'accordo, invece anche su questo vedo che c'è... Perché pare che ci sia, anche c'è pare, insomma da analisi, studi che si stanno facendo, c'è l'impressione che ci sia un grosso, diciamo, per così dire, pianeta al di fuori e molto vicino al sistema solare, che non è ancora stato studiato e interpretato. Quindi voglio dire, questo ci dice anche, come facciamo a dire, oggi sappiamo che il confine del sistema solare arriva a Plutone, Urano, Nettuno, Iris, ci sono dei pianeti che poi non sembrano pianeti perché hanno l'asse di rotazione, il piano di rotazione intorno al solo inclinato, quindi man mano che si aumenta la conoscenza, la capacità di interpretare le cose, magari questi confini si allargano, quindi da qua a cento di cento anni scopriremo che c'è un pianeta grosso, che c'eravamo dimenticati perché non l'abbiamo mai visto, che è un po' fuori da quello che è l'attuale sistema solare, come se possiamo dargli un perimetro, un confine, che potrebbe giustificare il fatto, come distribuzione di massa, che Giove in realtà non è nel posto sbagliato, è perché c'è qualcos'altro che gli consente di stare lì, che non è solo il Sole e la trazione degli altri pianeti che ha ad oggi sono noti. Perché secondo le varie forze gravitazionali non dovrebbe, perché non dovrebbe stare lì Giove? Beh perché se uno può guardare la distribuzione di massa, noi abbiamo, questi qua sono chiamati anche grossi pianeti gassosi come Saturno, anche no? Abbiamo fra il Sole e Giove dei pianeti un po' più piccolini come Mercurio, la Terra, Marte, c'è Venere, e poi si arriva a Giove che può essere considerato un piccolo Sole per le dimensioni e la massa che ha in gioco, e poi ci si trova di nuovo verso l'esterno, sia un pianeta grosso, non come Giove che è Saturno, e poi di piccoli pianeti come Plutone, Nettuno, Urano, relativamente piccoli rispetto a Giove e a Saturno. E poi questo dice come mai ho una grossa massa che è il centro di sistema solare che è il Sole, poi ho delle massette più piccole e poi ne ho... chi è che le tiene in equilibrio? C'è solo, a parte che non c'è solo il campo gravitazionale, ci sono anche altre forze che studiano, sia chi si occupa di relatività, ma anche chi si occupa di cosmologia. Può essere, anzi, potrebbe essere probante che un altro pianeta grosso, che un po' più in là contribuisca a tenere l'equilibrio delle forze gravitazionali e che giustifichi in modo più preciso la posizione attuale dei vari pianeti. Quindi ovviamente sono partite delle indagini ad hoc dopo questa... Dopo questa osservazione che, voglio dire, può anche essere legittima. Dopo è sempre una... giustamente un confronto continuo, una verifica continua se le osservazioni o i commenti infatti adesso sul fatto che sia giusto, no? Oppure... E' sempre tutto in discussione nel mondo della scienza. E questo è il bello dell'attività scientifica, che non c'è l'ips e dixit, non c'è io ragione tu hai torto, c'è il fatto però, la necessità di essere molto determinati a portare avanti le proprie convinzioni e essere disposti anche ad aggiornare le proprie convinzioni. Assolutamente, insomma ne abbiamo fatta di strada in questo senso dalla terra piatta ad oggi e ancora a quanto pare ne faremo. Io ringrazio il professore, il tempo è già finito, io sarei qui altre due ore perché veramente è interessantissimo stare ad ascoltare tutto quello che sta succedendo, ma voglio strapparle la promessa che torna però ad aggiornarci. Alle volte ritornano, come i marziani o gli alieni. Ma questa volta non sarà una minaccia, ma sarà solo un piacere. La ringrazio di essere stata con noi, noi continuiamo la puntata tra pochi istanti. A tra poco. Grazie.